Alle prime luci dell'alba i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di tre soggetti responsabili di associazione per delinquere finalizzata la commissione di truffe online. I tre indagati, associandosi stabilmente tra loro, avevano avviato un sito web attraverso il quale proponevano in vendita al dettaglio apparecchiature telefoniche ed informatiche di cui sistematicamente omettevano la consegna. L'indagine ha portato all'emersione di 125 episodi di truffa consumata per un danno stimato di circa 100.000 euro.